Intanto buonasera, mi chiamo Emanuele, ho lavorato per un po' di anni al CERN, sette anni e adesso sto lavorando allo European Spallation Source che è una sorgente di neutroni a Lund in Svezia. Volevo sapere molto brevemente perché quando faccio questo genere di talk diciamo non a persone che conosco e non in ambienti che conosco più o meno qual è il vostro background, molto rapidamente siete informatici, siete baristi, calciatori, che fate? Allora io monto resistenze in serie parallelo e chiedo anche aiuto. Enrico un po' lo so e gli altri in media diciamo? INFN Ferrara Abbiamo un esperto Io sono un web developer Un pastrocchione Un ballerino Ah figata Ma dite davvero mi state perpulando? No no, sembrano seri, sembrano seri, sì Abbiamo anche degli studenti poi Liceo scientifico Ah bene Liceo classico No dai te fai anche altro L'equazione di Dirac Mi stanno dicendo i titoli di studio Ah io l'ho finito il periodo dello studio ormai ormai Niente siamo rimasti su cose accademiche comunque via Va bene Non si sbilanciano Non si sbilanciano Va bene allora quando poi entreremo nell'ambito dell'equazione di Dirac Le soluzioni agli autovalori Voi saprete tutto Eh certo Ok Va bene vedete il mio schermo? In questo momento no Ok adesso sì Ok Si vede? Sì Perfetto Allora intanto buonasera e grazie per l'invito Io cercherò di fare del mio meglio per spiegarvi un pochino Che cos'è il lavoro di un fisico che lavora in big science Quindi in un grosso progetto come può essere un acceleratore di particelle Ho cercato di non focalizzarmi eccessivamente sulla tecnologia degli acceleratori Perché ritengo che possa essere abbastanza pallosa se uno non visita il laboratorio O non è strettamente interessato all'acceleratore Però cerco di dare un'introduzione in modo tale da spiegare un pochino Perché facciamo questo genere di cose Quindi perché facciamo acceleratori di particelle? Beh questa è una domanda abbastanza interessante Che io ho ricevuto diverse volte Perché sia al CERN sia dove sono adesso facevo anche la guida E quindi l'ho ricevuta dai ragazzini, da persone adulte Persino da ingegneri, scienziati Quindi non è esattamente scontato Intanto vediamo un po' Cioè è una follia di due o tre nazioni o è una cosa diffusa? Questo è il complesso degli acceleratori Si vede, sì? Sì Perfetto Che esiste a Zurigo, al PSI Paul Scherer Institute Che è composto da quattro macchine principalmente E si occupa di fare fisica di radiazione di sincrotrone e neutroni Questo è il complesso del GSI ad Armstead Con anche qui vediamo una serie di acceleratori Io ora non so se non ho un puntatore Non ho idea di come si faccia con questa diavoleria A mostrarvi il mio dito sullo schermo Però Vediamo il tuo mouse però Mi sembra che se sposti abbiamo visto il tuo mouse Vediamo il tuo mouse Perfetto, ma non lo vedo io Per cui siamo a posto E comunque potete vedere le macchine Sono quei cosi rotondi O quegli altri dove dice Unilinac E cose di questo tipo Questo è il J-Park Japan Proton Accelerator Research Complex Che si trova a Roccascio Un posto, un postaccio in mezzo al nulla Sulla costa est del Giappone Dove anche qui vediamo una serie di macchine C'è un ricircolatore a 3G Un Linac Una macchina più lenta per alte energie Eccetera eccetera Questo qui è una macchina enorme Fatta da due anelli Come potete vedere Questa è la prima macchina superconduttiva della storia E prende il nome da una persona Che forse avrete sentito nominare Che era Enrico Fermi Enrico Fermi è una sorta di superstar Della fisica negli Stati Uniti In Italia Sia no si sa che è italiano E loro gli hanno dedicato un intero laboratorio Vicino Chicago Perché Chicago è dove lui ha fatto il primo reattore nucleare Sotto lo stadio del baseball Tutto quanto funzionava E non è esploso Basato sui suoi calcoli E sul tempo in cui lui inseriva Ed estraeva la barra di controllo Dei neutroni A mano Con un cronometro analogico Se lui avesse sbagliato questi conti La città di Chicago Probabilmente oggi sarebbe molto diversa Questo durante come prototipo Per il progetto Manhattan Ad ogni modo Questa è la prima macchina superconduttiva Mai costruita Ed è un anello di 12 chilometri Non me lo chiedete con precisione Perché non lo so Oppure se l'ho visitato Ed è il primo collisore grosso di Adroni Della storia Poi c'è un altro sempre negli Stati Uniti A Long Island Quindi vicino a New York Che è la macchina per fare ioni pesanti Tutta la scala Tutti gli elementi della tavola periodica più alti Li hanno creati Il grosso li hanno creati qui dentro Si chiama relativistica di Ion Collider È un'altra macchina enorme Superconduttiva gigantesca E poi Abbiamo Una cosa che probabilmente avete sentito nominare Si Elena io l'ho sentito nominare Però tutto il resto no Anche Alice Hai sentito nominare Elena? Elena e Alice si Però tutte le altre ragazze non le conosco Ma Cioè Elena come nome Esatto si Giusto quello Tutti i complessi dei lavoratori del CERN C'è qualcuno qui che invece li conosce anche Qualcosina si Qualcosina si No tutti assolutamente no CSM, LHC, ATLAS, LHCB Poi basta Gli altri Gli altri mai Sì Gli altri non li conosco Benissimo Qualcuno Sono capitato un paio di volte Sul PS piccolino A farete dei test BIM In un fascio secondario Scusa? Sono capitato un paio di volte Sull'uscita del PS Su un fascio secondario Abbastanza debole Per fare dei test BIM Di un revelatore che avevamo noi Tu sei quello dell'INFN Esatto giusto Come ti chiami scuse? Barion Luca Luca Benissimo Sì Io Qui ho usato un po' tutte queste macchine E considerate che questa immagine per esempio Non è neanche più tanto realistica Perché l'INAC 2 non esiste praticamente più Stanno collegando l'INAC 4 Che è la nuova macchina che lo andrà a sostituire Di fatto quello che succede in queste macchine Che vengono generate dalle particelle Vengono mandate all'interno di tutti questi loop che vedete Uno via l'altro A volte vengono estratti e mandati in alcune aree Per farci qualcosa Altre volte invece arrivano fino a LHC E dentro LHC fanno delle collisioni Fra di loro Sia di protoni sia di ioni pesanti Per andare a tirar fuori qualche cosa Poi andremo a vedere che cosa Questa è la macchina di Stanford Siamo sempre negli Stati Uniti Questa è una macchina lineare Con anche un ring Che serve a fare da ricircolazione in questo caso Ed è piuttosto grande anche questo come macchinario E questa è quella che sto costruendo io Un po' il mio pargolo Dove si vede l'area di costruzione del target prevalentemente E il capannone che ospita la Clystron Gallery Che sarebbe la zona degli amplificatori di potenza Che trasferiscono energia al fascio Tutto questo è fatto a Lund Fra l'altro la ciambellina che vedete in alto a sinistra È un altro acceleratore di particelle Che si chiama Max 4 O Max Führer come dicono qua Führer di Ball E sarebbe una macchina per radiazione di sincrotrone Allora intanto perché ho fatto questa rassegna L'ho fatta perché volevo chiarire un concetto fondamentale Non è una specialità di un laboratorio Quella degli acceleratori Non è solo il CERN Non è un unico nel mondo È pieno di acceleratori Quando dico pieno Diciamo che saranno una cinquantina le macchine Quelle importanti nel mondo Quindi perché si fanno queste macchine? Cioè ci deve essere un motivo dietro Non è una cosa Solo per trovare il famoso bosone di Higgs Poi ne parleremo Allora uno dei motivi principali È che le particelle sono piccole Ora voi immaginate di voler vedere Si può fare un esempio Se voi prendete una partita di calcio E siete sugli spalti Il grosso della partita Voi lo vedete Individuando prevalentemente Le maglie dei calciatori E la sagoma della palla Perché di più Più dettagli non riuscite a vedere tanto Quindi Di tutto uno stadio Che è molto grosso Centinaia di metri Voi andate a Per identificare la parte che vi interessa Andate a vedere degli oggetti Che sono della dimensione del metro Una persona è alta un metro Due metri Quello che è però Quella scala lì La palla è di 40 centimetri 20 centimetri Dipende se fate circonferenza Benissimo Quindi Quando voi studiate un oggetto Di solito andate a utilizzare Qualcosa di piccolo Per poterlo Identificare Per potergli dare una forma Se voi Per esempio Avete una palla da biliardo E volete individuarne la posizione È abbastanza scomodo Mandarli contro delle altre palle da biliardo E vedere dove vanno a rimbalzare Perché sposterete La pallina che volevate misurare Tra l'altro questo è uno dei Modi con cui viene spiegato Il famoso principio di indeterminazione Voi avete un oggetto Lo bombardate con oggetti Della stessa dimensione Lo mandate in vacca Non è più facilmente trovabile Ma comunque Al di là di questo La cosa che È interessante È che se voi avete una sonda Molto più piccola Dell'oggetto che volete studiare Beh, quella sonda È utile Per fare microscopia O comunque per La visualizzazione dei vostri oggetti Chiaramente La sonda Tipica La prima Che è stata utilizzata Da tutti Sono i fotoni I fotoni I fotoni Compongono la luce E sono effettivamente Delle particelle Molto piccole Che Per lungo tempo Fino ad Einstein La gente non pensava Neanche fossero particelle Poi Einstein ha detto No I fotoni Sono come gli elettroni Come i protoni Come tutte le altre particelle E venivano utilizzati Anche un po' Inconsapevolmente Con i microscopi I telescopi E tutti questi oggetti Che finiscono in scopi E Questo È Un tipo Di particella Che si può utilizzare Ho detto Il fotone è molto piccolo Ma quanto? Ah Fra l'altro Se avete domande Interrompetemi Qualcuno ha mai visto Dei fotoni? Ok Tutti i giorni Dicono Si li conoscono bene Li vedono tutti i giorni Ha detto Quelli che ti stanno entrando Nell'occhio Dalle mie slide Sono dei fotoni Fra l'altro Anche che fotoni Non è che Non sono fotoni Scelti a caso Beh Storicamente I primi che si utilizzavano Erano quelli Della luce Della luce solare Quindi A caso Abbastanza Quello che ci dà il sole E quelli che Il nostro occhio Per un'evoluzione Abbastanza casuale Vedono Perché poi La zona dei fotoni Va Dalla radiofrequenza Fino Ai raggi gamma E noi vediamo Uno spettro Una parte Dello spettro Che è Estremamente Sottile Piccola Rispetto a tutto Lo spettro del visibile Beh Comunque Io ho detto I fotoni Sono particelle piccole Che permettono Di guardare le cellule Per esempio Tutti avrete fatto L'esperimento Di tagliare La cipolla A fette Metterla sul microscopio Vedere la cellula Della cipolla Non so perché facciano Sempre queste cose Tra l'altro La cipolla puzza Potrebbero fare cose Più divertenti Ma comunque Quando si fanno Gli esperimenti Classici a scuola Si usano Queste robe qua Ma quanto è piccolo Il fotone Beh In realtà Esistono particelle Più piccole Anche se parlare Di dimensione Delle particelle È un campo minato Ma comunque Gli elettroni Per esempio Sono più piccoli Dei fotoni Tant'è vero Che avrete sentito Nominare Un'invenzione Che è del secolo scorso Del novecento Che il microscopio Ha elettroni Cosiddetto Microscopio elettronico Che non è elettronico Perché c'ha dentro I circuiti Che poi ricostruiscono Immagini E' elettronico Perché usa gli elettroni Per vedere Il campione Per esempio Questa è la stessa Immagine Di una Un insieme di cellule Dove si vogliono Andare a vedere Le strutture interne Quegli aggeggi verdi Sono gli stessi Ricostruiti Al microscopio elettronico A destra Si vede chiaramente Che lo zoom Diciamo così Il livello di In italiano Ste cose è difficilissimo Di magnificazione Non esiste Di Un gran momento E' estremamente Maggiore Con gli elettroni Perché? Perché l'elettrono È una sonda Molto più piccola Del fotone E quindi Permette di vedere Dettagli Più piccoli Come si stabilisce La dimensione Perché è più piccola Sta particella? Beh Un modo Ora dico Un po' di cose Per cui Quello degli NFN Se si butta alla finestra Gli do ragione No no E' qua che scrive I suoi amici Ridendo Stati Sta già No no Ve la dico In modo Estremamente Naiv Ma Una Scusa? No niente Dizio che sono Quanto più lontano Ci può essere Dal teorico Formula eccetera Sono sperimentale Fino all'osso Quindi Va benissimo Questo livello qua Anche per me Benissimo Un modo A strato Ma proprio regola A spanne Di dire Quanto è grossa Un oggetto Una particella elementare E' quella di associargli La sua lunghezza d'onda Data dalla famosa Relazione Che vale per tutte le particelle Dove l'energia È uguale Alla costante di Planck Per la frequenza La frequenza È l'inverso Della lunghezza d'onda Diviso per la velocità Della luce Quindi Si ha una relazione Che ci dice Che l'energia È uguale A una costante H Che se l'ha inventata Planck Quando si fumava Le sue cose Lui non era Olandese Quindi non so che fumava Per la velocità Della luce È diviso La dimensione La lunghezza d'onda Ora si dovrebbe chiarire Cos'è sta lunghezza d'onda L'onda di probabilità Bla 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 Ma non ve la sto a fare Sto pippone Perché non vale la pena Però quello che avete Che in questa formula La dimensione Lambda È inversamente Proporzionale All'energia Cioè Più una particella È grossa È energetica Più è piccola Di dimensioni Per esempio Voi siete portati A pensare Che il protone Che sta dentro Al nucleo dell'atomo Sapete che l'atomo È protone Neutrone È l'elettrone Che gli gira intorno Ma mi vedete Quando faccio così? Sì sì Ti vediamo Perfetto Protone Neutrone È l'elettrone Che gli gira intorno La cosa che ci hanno Sempre mostrato Nei libri È che il protone È grosso così Il neutrone È grosso così E l'elettrone È piccolo così Ecco questo Da un punto di vista Strettamente quantistico Non è proprio vero Perché le dimensioni Fisiche del protone Sono più piccole In termini di lunghezza D'onda Delle dimensioni Dell'elettrone Perché il protone Ha più massa E quindi ha più energia Questa cosa Che vi lascia Un po' basiti È effettivamente È un po' strana Nel mondo Della meccanica quantistica Ma è così Quindi uno dei motivi Per avere Le particelle Più energetiche Se volessimo Vederlo In un sistema Estremamente Grezzo Vi ho raccontato Un sacco di palle Però Non del tutto È che Quando accelerate Il vostro oggetto Lo state rendendo Più piccolo E quindi State costruendo Una sonda Che può essere Migliore Per vedere Il vostro materiale In realtà Poi bisogna anche vedere Quella che si chiama Cross section Cioè come La vostra particella Interagisce con Il campione Che volete osservare E lì La meccanica quantistica Di nuovo Può sorprendere Può essere del tutto Controintuitiva Un oggetto che va Più veloce O più piano Può interagire Di più o di meno E quindi Potete vedere Di più o di meno Del vostro campione Per esempio La macchina Che io sto costruendo Fa neutroni Perché i neutroni Scavalcano Tutto il guscio Di elettroni Che stanno intorno All'atomo E permettono di vedere L'interno Di un oggetto Per esempio Questa è una macchina Fotografica Ora io spero Che qualcuno di voi Sia vecchio Quanto me là dentro E si ricordi Che quando si facevano Le foto C'era la pellicola Dentro la macchina Siete abbastanza vecchi? Sì sì Uno del liceo Quello del liceo Non l'avrà mai vista Sta cosa Ma gli altri sì No L'ha vista anche lui Su internet magari Perfetto Ora se voi vedete Questa macchina fotografica Quella sotto È analizzata E raggi X Non è possibile Stabilire se all'interno C'è o non c'è la pellicola Perché La capsula Che conteneva La pellicola Nella macchina fotografica Era di metallo Ed era fatta apposta Per schermare La radiazione Che proviene dal sole Quella infrarossa Nel particolare E quindi Ha una struttura metallica Intorno E i raggi X Non la penetrano Perché I fotoni I raggi X Sono fatti di fotoni Interagiscono moltissimo Con gli elettroni E tutti i metalli Hanno una struttura Di elettroni liberi E quindi Quando il fotone Del raggio X Arriva A colpire Il guscio Che contiene Il La La pellicola Viene riflesso E quindi Non si vede l'interno È il motivo Per cui i raggi X Vanno bene Sulle ossa Che Riflettono Assorbono Il raggio X E Invece Attraversa La pelle Ma se Dovete vedere Dentro un oggetto metallico Non vedete niente Invece Neutroni Non vengono Fermati dagli elettroni Liberi del metallo E potete vedere Chiaramente La parte interna E vedere Che c'è la pellicola Chiaramente è stata Distrutta dai neutroni Però Ne vedete La La presenza Quindi Si costruiscono Acceleratori Con particelle Anche diverse Quindi quello che genera Raggi X E quello che genera Neutroni Per fare tecniche Complementari Non è che Uno è meglio Dell'altra Però vedete che Si vedono Dettagli del tutto Diversi Dello stesso oggetto Questa è Tipica Io la faccio vedere Quando fanno le visite Perché Siccome Sono italiano Allora gli faccio vedere Che noi il caffè Lo facciamo così E siccome Il flusso di particelle Che noi generiamo Con gli acceleratori È controllato Dal meccanismo Da tutta la struttura Di accelerazione Noi possiamo anche Calibrarli nel tempo E costruire Una sequenza Di immagini Che poi Ricostruite E danno filmati Questa è Una moca normale Durante il suo funzionamento Ripresa Con i neutroni Con i neutroni Perché a raggi X Non lo vedreste mai Una cosa così Perché la moca È di alluminio E l'interno È invisibile Per i raggi X Dovete usare Una particella Diversa La particella Che sto utilizzando Qui Sono i neutroni Che è stata fatta Al PSI A Zurigo E potete vedere Il caffè Ora se gliela facessi vedere A quelli del gruppo Crypto Mi direbbero Che è un caffè Che fa schifo Che ci ho messo in casa C'è una buona rappresentanza Qui Sta attento C'è una domanda Sì Una domanda Normalmente Vengono utilizzati Ioni Perché sono Sensibili Ai campi elettrici Per gli acceleratori Come si fanno Ad accelerare invece I neutroni Che sono appunto Neutri I neutroni Non li acceleriamo E questo è un grosso problema È un grosso problema Perché li devi generare All'energia che vuoi Per fare questo Acceleriamo protoni Con un'energia opportuna Che vanno a sbattere Contro un bersaglio opportuno E da questo bersaglio Escono neutroni Con il massimo di energia Che desideriamo Dopodiché Se vogliamo Dei neutroni Con meno energia Li moderiamo Cioè li rallentiamo In questo modo Abbiamo un range Di energia Dei neutroni Dal valore massimo Che è quello estratto Per collisione Con protoni A valori Un po' Di meno In funzione di Che tipo di esperimento Vogliamo fare Capito Grazie I neutroni Ma ti dirò di più Una cosa che io Non ho mai capito Ho parlato con quelli Di neutroni Che ha per settimane I neutroni Vengono incanalati In delle guide d'onda Che sono Dei tubi rettangolari Io non ho mai capito Come faccia il neutrone A sbattere Contro i muri Perché da un punto Di vista atomico Lo sbattere Non mi è chiaro Perché Il neutrone Neutro A parte Un debole Momento magnetico Dovuto ai quark Che si muovono Al suo interno E quindi La collisione Che uno Si immagina Meccanica Non esiste A livello atomico Ci deve essere Una delle forze Fondamentali Che sono la gravità Quella elettromagnetica Quella debole E quella forte Una di queste Deve essere repulsiva Quando il neutrone Si avvicina molto Alla superficie Della guida E io non ho mai capito Qual è di queste Cioè non è la gravità Chiaramente Ma non so se è L'elettromagnetico La debole Che genera un meccanismo Per cui il neutrone Viene riflesso Il fatto sta Che loro riescono A fargli fare I rimbalzi All'interno Su queste guide d'onda Che hanno Un rivestimento Con un materiale apposito Che ha alta riflettività Dei neutroni Però se dovessi dire Il meccanismo fisico Io stesso Non so In base a cosa Quindi è complicato Questa L'ultima cosa Che vi faccio vedere Con i neutroni È una Perché appunto Noi possiamo calibrare L'energia E la velocità Con cui generiamo Questi neutroni Questo è Un 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 produttore di aereo Che sta sviluppando Una Una turbina In cui Le lamelle Queste della turbina Sono Le vogliono fare Con una struttura diversa In un monoblocco Con meno materiale Per renderle più leggere E farle girare Con meno carburante A parità di velocità Quindi loro le hanno costruite Hanno fatto il prototipo Poi sono andati a Oak Ridge Dove c'è uno Delle macchine per neutroni Gliel'hanno portata lì E questi Gli hanno fatto la tomografia Questo non è un rendering In 3D Questa è una tomografia A neutroni Del loro campione Dove si vede In base al colore La Lo spessore Di materiale Depositato E l'ingegnere Guardandosi questo Può stabilire Se effettivamente La struttura all'interno Era quella Che loro Avevano progettato Oppure se Se il processo Di costruzione Non resiste Allo stress Se il materiale Può avere Qualche Imperfezione E quindi Per darvi un'idea Se voi oggi Voleste fare una misura Di questo tipo A Oak Ridge Quindi Negli Stati Uniti Questa è Crypto Italia Che mi rompe coglioni Un attimo solo Che chiudo la chat Se voleste fare Questo tipo Di trasmissione A Oak Ridge Di misura Dovreste andare Lì Proporre il vostro progetto E se viene approvato Fra cinque anni Potete fare la misura La coda è di cinque anni Ed è il motivo Per cui stiamo costruendo Una seconda macchina Di questo tipo In Europa Quindi Uno dei motivi Per cui costruiamo Gli acceleratori È per usare direttamente Le particelle Come sonde E questo Si fa tantissimo Ci sono macchine elettroni Macchine a protoni Macchine a neutroni Macchine a elettroni Che generano Radiazione specifica Facendoli ondulare Che così generano Radiazione di sincrotrone Macchine Per ioni Pesanti Macchine di ogni tipo E potremmo chiamare Queste come macchine Di applicazione Poi c'è Una categoria Molto grossa Che è quella più Sentita sui giornali Se vogliamo Dal pubblico comune Che non è Quella di queste macchine Infatti voi probabilmente L'European Spallation Source Il PSI Queste macchine qui Non le avete sentite nominare Voi avete sentito nominare Prevalentemente Il CERN Il quale Non fa queste cose Per capire Cosa fa il CERN Voglio partire Da molto lontano Però Perché Vi voglio dare La teoria Del perché Siamo arrivati A fare macchine Così grosse Così complesse Come Il Large Hadron Collider A Gineva Tutto nasce Alla fine Del 1800 Nella grande Generazione di matematici Che hanno preso La fisica Che veniva da Newton E Maxwell E l'hanno Ristrutturata Completamente Rendendola La teoria moderna Che usiamo oggi Cioè la fisica Di Newton Di una bellezza Incredibile Non è Formale Gli manca Una struttura Matematica Dietro I grandi matematici Che sono stati Lagrange Hilbert E Noether Hanno preso Questa teoria E l'hanno costruita Ristrutturata In una teoria Puramente formale Dove Tutti i concetti fisici Hanno una loro struttura Matematica Di tutti questi Probabilmente Il teorema Più importante La struttura Matematica Più importante Che abbiamo Nella fisica E' il teorema Di Noether Che risale Amalie Emi Noether La quale pubblicava Col nome di un uomo Per molti anni Perché le donne Non erano ammesse Alle pubblicazioni Quindi lei scriveva Con uno pseudonimo Altro che il MeToo Le donne Presenti in sala Hanno detto Eh lo sappiamo Lo sappiamo Eh Tuttavia Nella comunità Scientifica Si sapeva Che era lei Perché poi Invitavano lei A fare i talk Perché agli scienziati Gli fregava ben poco Di tutte queste Queste beghe Loro volano sentire La teoria Infatti Einstein Scrisse di lei Che probabilmente Era la Il matematico Più dotato Che lui Avesse mai incontrato Che cosa dice Il teorema Di Noether Una cosa Molto semplice Se non sto A farvi conti Matematici Con la Lagrangiana Ma dice Che se voi In natura Avete una simmetria Avete una legge Di conservazione Se voi Avete una legge Di conservazione Avete una simmetria Cos'è una simmetria? La simmetria Significa che Se voi Cambiate Punto di vista Sulla vostra Osservazione E il fenomeno Rimane lo stesso Avete Una simmetria Questa è la simmetria Cioè la descrizione Di un fenomeno fisico Che non cambia Al cambiare Del sistema Di riferimento Per esempio Se voi Girate intorno Al vostro laboratorio Lo orientate Diversamente Il risultato Dei vostri esperimenti Non deve cambiare Se voi Spostate Avanti e indietro Il vostro laboratorio Il risultato Del vostro esperimento Non deve cambiare Se voi Il vostro esperimento Lo iniziate Stasera O domani sera Il risultato Del vostro esperimento Non deve cambiare Queste sono simmetrie Quelle che ho enunciato Che sembrano Banalità Conducono Rispettivamente Alla conservazione Del momento angolare Alla conservazione Della quantità di moto E alla conservazione Dell'energia Queste tre leggi Sono dovute A quelle tre simmetrie E lo dice Nutter Ve ne faccio Una semplice Che si vede La bicicletta La bicicletta La conoscete tutti Se voi la mettete Dritta in piedi così Casca O a sinistra O a destra Non c'è un motivo Per cui dovrebbe stare in piedi Ma se voi La bicicletta Iniziate ad andarci sopra La fate girare La ruota Della vostra bicicletta Rimarrà Dritta Il famoso Giroscopio L'avrete visto Avrete sentito parlare Di sta cosa Si vede? Si si vede Questo sta facendo girare La ruota Ora la mette A 90 gradi E la ruota Non è che casca Rimane a 90 gradi Man mano Che Questo lo potete fare a casa È divertente Come esperimento Man mano Che la velocità Diminuisce Piano piano La ruota Cadrà Poi perché gira Si chiama moto di processione Non lo stiamo a vedere Perché non c'è voglia Di stare a incasinarvi troppo Perché la ruota sta su? Beh Perché Lo spazio È del tutto simmetrico Per i fatti suoi Cioè Da che lato guardate Sto oggetto Lui Non deve cambiare Ma nel momento In cui mettete la ruota In rotazione State dividendo L'universo In due parti Una sta a destra E una sta a sinistra E questa è una divisione Si chiama rottura di simmetria Che è operata Dal fatto che La ruota adesso Si sta muovendo Non è più Un oggetto Che voi mettete lì Sta dividendo Lo spazio In due parti A questo punto Non deve esistere Più un motivo Per cui la ruota Può andare O a sinistro A destra Deve rimanere Nel suo piano Questo ci viene dato Dal teorema Di Neter Principio di conservazione Dovuto alla simmetria La simmetria spaziale Che viene data Dalla ruota Che gira Impone alla ruota La legge di conservazione Che cosa si conserva Il piano E questo Il piano su cui Giace il moto Per la ruota E questo È l'essenza Del teorema Di Neter Si è capito? Bello Si Si Vedo dei si Benissimo Ora Questa cosa È La base Totale Globalissima Di tutta La fisica Perché In che modo? Beh Abbiamo scoperto Una cosa Molto interessante Nella fisica Elementare Le sole cose I soli Vincoli Naturali Sono quelli Delle leggi Di conservazione Per esempio Se noi abbiamo Un gruppo Di tre particelle Queste non possono sparire Devono rimanere tre O meglio Magari due possono Collidere E generarne altre In un numero diverso Questo può succedere Però L'energia totale Cioè la massa Più la velocità iniziale Delle particelle Deve rimanere conservata Qualunque cosa faremo Questa cosa Deve rimanere conservata Perché C'è una simmetria Quella del tempo Che se tu vai Ti sposti In un punto Qualsiasi del tempo E fai il tuo esperimento È costante Ti rimane lo stesso valore Che garantisce La conservazione Dell'energia Questo vuol dire Che se noi Prendiamo Sto gruppo Di particelle E le incasiniamo Nel modo peggiore possibile Comunque L'energia Sarà conservata Questa cosa Viene appunto Dal terremoto Però Qualunque altra cosa Che non abbia Una conservazione Può accadere Per esempio Da nessuna parte C'è scritto Che le particelle Debbano muoversi Avanti nel tempo Non c'è Non c'è Una legge Di conservazione Dello scorrere Del tempo Non esiste Per cui le particelle Vanno anche indietro Nel tempo Noi lo sperimentiamo Continuamente Negli acceleratori Le particelle Possono andare avanti O indietro nel tempo Per loro Il tempo È del tutto Inesistente Non è una cosa Che effettivamente Loro percepiscono Il tempo È una percezione Che noi abbiamo Dovuto all'entropia Che è tutto un altro concetto E non ve lo sto a spiegare Però Non è una proprietà Delle particelle Le particelle Si muovono liberamente Avanti e indietro nel tempo Tutte le cose Voi potete immaginare Che si formano Degli elefanti Con la proboscide viola Che poi scompaiono Tutte le cose Che non sono Vietate Da una legge Di conservazione Non solo possono accadere Ma accadono Nella fisica Delle particelle Quindi Come fanno i fisici A studiare Le leggi naturali Cercano le simmetrie Perché abbiamo detto Che Ciò che vincola Le particelle Sono i principi Di conservazione E il teorema di Neuter Ci dice Che ogni simmetria Ha principio di conservazione Viceversa Ogni principio di conservazione Allora Il fisico teorico Si siede a tavolino E inventa simmetrie Dice Ma è vera Questa simmetria È vero Che se io faccio Questo movimento La fisica rimane E se la inventa Da questa deduce Il corrispettivo Legge di conservazione Dopodiché Va in laboratorio E vede se quella legge È conservata Per esempio Noi diciamo Che ne so Il numero di leptoni Deve essere conservato Questa è una È dovuta A una legge di conservazione Quindi Se tu hai Dei leptoni Che sono particelle particolari E fai una Una misura Il numero di leptoni Deve essere conservato Per esempio Il numero di barioni Il cosiddetto numero Barionico Non è conservato Ed è pieno Di leggi Di questo tipo Che poi si riconducono A poche Leggi di simmetria Che noi Continuamente Sperimentiamo Tutta la fisica È costruita In questo modo Se il fisico Si siede al tavolino Si inventa Una simmetria Ne deduce La legge di conservazione Va in laboratorio E la prova A volte però Queste leggi di conservazione Sono Per provarle Si deve andare A stressare Il sistema In modo Molto Complicato Soprattutto Sono vere Per verificarle Quando le densità Di energia Sono estremamente elevate Scusa Mi hai triggerato Su una cosa Mi dicevi prima Che particelle Possono andare indietro Nel tempo Come ve ne accorgete? Non ce ne accorgiamo Noi il tempo Ce l'abbiamo In una direzione E lo imponiamo Però Se tu prendi Un elettrone Che si muove Nella direzione temporale Che tu definisci positiva Oppure Un positrone Che sarebbe L'elettrone Con la carica scambiata E lo muovi Nella direzione temporale Negativa Ottieni la stessa dinamica Non lo puoi distinguere È indistinguibile Infatti questa È una grossa simmetria Che si chiama Simmetria CP Carica CT Scusa Carica tempo E Non c'è modo Di distinguerlo Esistono Dozzine di esperimenti Che cercano di capire Se facendo L'esperimento E guardandolo In un modo O nell'altro Si vede una differenza E questo Non si è mai visto Quindi Non ce ne accorgiamo Noi fissiamo Una direzione E basata su quella Imponiamo La carica Della particella E la tracciamo Nel nostro tempo Ma la puoi Tutta descrivere Al contrario Ed è identica Quindi per quanto ne sappiamo L'universo può andare Al contrario nel tempo E noi non ce ne stiamo accorgendo Lo chiamiamo In una direzione Ma magari nell'altra Ho capito È un po' strano Da pensare Però L'unica cosa Che impone Una direzione Del tempo È l'entropia Ai nostri occhi Però l'entropia È un fenomeno Emergente Statistico Non è Cioè Se tu pigli L'acquario Quei pesce Lo fai bollire Ottieni la zuppa di pesce Dalla zuppa di pesce È piuttosto complicato Pare Tornare all'acquario E quindi Diciamo Se tu vedi Due fotografie Zuppa di pesce Acquario Sai dire Qual era prima E qual era dopo Così che noi Percepiamo il tempo Ma da un punto Di vista atomico Se tu pigli Gli atomi Della zuppa di pesce E gli atomi Dell'acquario Non c'è distinzione Loro hanno fatto Hanno seguito Una dinamica Sono andati Da uno all'altro E potresti Invertire la cosa E andare dal secondo Al primo Non c'è Una L'unica Differenza È che le probabilità Degli stati Sono adesso Maggiori Nella zuppa Di pesce Rispetto all'acquario Che è un sistema Più ordinato E quindi Ha una probabilità Minore di accadere Però È un fatto Emergente Non è un fatto Innato Nella natura Delle leggi fisiche Un po' complicato Ci si deve pensare Col discorso Del fatto Che sia una questione Di probabilità Di partire Da un sistema Ordinato E andare in uno Disordinato Piuttosto che tornare Indietro Direi che È abbastanza Intuitivo Ottimo Grazie E quindi Quello che si fa oggi È cercare Ogni possibile Evento O almeno Ogni possibile Di quelli che i teorici Sono seduti lì Hanno detto Dovrebbero esserci Quindi Che si fa Si ipotizza Che esistano Una serie di eventi Che rispettino Una serie di leggi Di conservazione O che le violino A seconda Del tipo di simmetria Che uno si è immaginato E poi si fanno andare A sbattere Con estrema violenza Delle particelle A un'energia tale Da poter produrre Questi eventi Chiaramente Tutti gli eventi Che potevamo produrre Alle energie più basse Li abbiamo già visti Ed ecco che La competizione Andrà a energie Sempre più alte Anche perché La fisica Sembra dirci Ma questa È totalmente ipotetica Non è mai stata dimostrata E non c'è un motivo Per cui dovrebbe essere così Che Più si aumenta L'energia Più quindi Si va alle condizioni In cui si è generato L'universo Perché l'universo Era tutta la massa Che vedete Le galassie Centinaia di miliardi Di galassie Tutte condensate In un puntino Molto piccolo Quindi la densità Di energia Lì era Un bordello Unità fisica Unità di misura Standard Esatto Quella A quella densità Di energia Appare Che Il mondo Fosse Super simmetrico Cioè Soddisfasse Delle simmetrie Molto grosse Molto ampie Dei gruppi Di simmetria Tali per cui si dovrebbero vedere fenomeni estremamente simmetrici Leggi di conservazione globale che poi si spezzettano in simmetrie locali che noi oggi misuriamo C'è tutta una teoria su come dovrebbe essere un universo super simmetrico che poi per rottura spontanea di simmetria Come dire Tu vedi la ruota della bicicletta quando è ferma per terra e dici boh quella è ferma Però se gli puoi dare un poco di energia e farla ruotare dici ah guarda un po' quella ritorna a uno stato di simmetria La stessa un po' la stessa cosa è quello che facciamo nei grandi collisori Cerchiamo di ritornare indietro alle condizioni di densità di energia un po' prima di quella di oggi e vedere se lì costruiamo queste leggi di conservazione che ci aspettiamo di vedere E questo è questo che avete visto qua è CMS il compact muon solenoid Se avete visitato il CERN capirete che la parola compact l'hanno usata per coglionare i visitatori E' un aggeggio grosso come un palazzo di dieci piani probabilmente Ed è compatto rispetto ad Atlas che è l'altro sperimento grosso che è questo qua E questo è quello che vedete in una collisione di solito Tutti questi pallini che vengono generati E voi dovete capire se fra questi c'è il pallino del teorico che l'ha previsto Uno di questi è stato il bosone di Leeds Poi magari vediamo cos'è Ora c'è un punto essenziale Io vi ho parlato della parte scientifica Cioè noi costruiamo queste macchine per due motivi ho detto Uno di applicazione immediata Fra l'altro io non vi ho detto l'applicazione più diffusa Che l'ho tralasciata perché è quasi banale Ma è la terapia del cancro Cioè ad oggi moltissimi tumori vengono combattuti Mediante l'utilizzo di acceleratori di particelle E queste sono macchine dall'applicazione immediata Poi ci sono quelle per fare le radiografie Sì le radiografie diciamo Lo studio dei materiali come quella che sto costruendo io Come ce ne sono altre E poi ci sono le macchine di scoperta L'HC, il Tevatron, RIC Sono macchine che cercano nuova fisica Nuove simmetrie della natura, nuove leggi E su queste tante volte si obietta Una domanda è Sì ma perché? Ho capito Ma dopo che io so che il Pinco Pallino Ha questa legge di conservazione Ma che me frega Vale la pena investire in un progetto di questo tipo? Ecco Una delle cose che vorrei sottolineare Sì vale la pena Intanto vale la pena perché con la tecnologia sviluppata Per fare l'HC ci curiamo poi i tumori Perché è da lì che viene La macchina Per esempio Avete mai fatto una risonanza magnetica? Quella dove vi mettono nel tubo e sentite Sì Quel coso lì è un solenoide superconduttivo E la tecnologia dei magneti superconduttivi È stata sviluppata Appunto per la prima volta al Tevatron Per fare Gli acceleratori di particelle Poi uno ha detto Ma sai che c'è? Possiamo vedere lo spin magnetico dei protoni dentro i nuclei E lo usiamo per fare radiografie innocue La risonanza magnetica è del tutto innocua L'inventore se ne è fatta i 10.000 Per fare i tè Quindi non è come la TAC O i raggi X Che invece sono radiazioni ionizzati Risonanze magnetiche potete passare la vita dentro il macchinario Questo genere di tecnologia quindi è così Ma quindi La ricerca di base a che serve? Ecco Vediamo che cosa occorre per fare una macchina come LHC LHC è una macchina di 27 km È la circonferenza di Milano Se voi prendete la circonvallazione di Milano Se siete stati a Milano Se no Parigi Più o meno È di 27 km Quindi è una macchina che sta lì dentro È fatta da 2808 magneti Una botta di roba LHC genera Ora lo dico per gli informatici in sala Un petabyte al secondo di dati Quanto? Quanto dicono scusa che è? Un petabyte Petabyte Quello Al secondo Al secondo Chiaramente questo necessita Il dover sviluppare una tecnologia dell'informazione Scusa Hai chiesto Enrico se la mettete su blockchain poi Ma su bitcoin cash Perché hai blocchi più grossi Esatto esatto In flessere tasci visi Ok Bitcoin costerebbe troppo Non è andato per questo No Ok Vai pure avanti scusa Altro che Ethereum Un petabyte per secondo Chiaramente Una cosa di questo tipo Richiede di dover sviluppare un sistema Di Trasferimento Archiviazione Analisi dati Che non esiste Fanno un miliardo di collisioni Al secondo Sono La temperatura che si sviluppa Nelle collisioni E' centomila volte più grande Della temperatura del sole Il tutto dentro una macchina Che sta a due kelvin Meno duecentosettanta Quanto è? Meno duecentosettantuno gradi Cioè Fare una cosa così È difficile E questo È secondo me Il motivo principale Per cui queste macchine Non valore Ancora di più Della scoperta scientifica In sé Che è Diciamo La motivazione ultima Ma L'idea di cimentarsi In un compito Così complesso Con un obiettivo Chiaramente Non giusto per farlo È la motivazione Che poi Permette Di Spingere La tecnologia Oltre Quello che Si faceva prima Per esempio La costruzione Del magnete Di polare Di LHC Questo aggeggio Che vedete qua Che di questo Ce n'è migliaia All'interno Di LHC Superconduttivo Ha richiesto Sei anni Di sviluppo Per sei anni Laboratori Persone specializzate Di cavi I cavi Di questo magnete Li hanno fatti La divisione Pirelli Cavi Di Milano Poi sono stati Imbobbinati Hanno dovuto fare Migliaia di test Su come Costruire Le strutture Per ospitarli Dopodiché Li hanno Assemblati Li hanno messi insieme E sono riusciti a fare Un aggeggio Superconduttivo E questi sono Magneti Da Mi sembra Dieci Tesla Di campo Che servono Per far girare Le particelle Quindi non sono proprio L'oggetto Finale Di tutta l'aggeggio Sono Semplicemente Delle strutture Che incanalano Le particelle Le fanno girare All'interno Della macchina E ci hanno messo Sei anni Per costruirli Sei anni Dove non è che Si sono grattati La testa Ci hanno fatto Chili e chili Di tecnologia Che poi Verrà impiegata Per fare Che ne so Nuovi macchinari Medicali Nuovi sistemi Di trasporto I treni A levitazione Magnetica Vengono tutti Da queste ricerche Questa la conoscete Probabilmente Non so se l'avete mai vista In questo formato Questo è stato Il primo formato Di Tim Berners Sto guardando Sto guardando un po' Le facie Vedo occhi Un po' Più chiusi Qualcuno sta Lezzendo Qualcuno ha capito Cos'è? Web La prima pagina web Pagina web Questa è stata fatta Al CERN Da un ricercatore Al CERN Perché? Perché negli anni Ottanta C'era la necessità C'era la necessità Negli anni Ottanta Di scrivere Di fare un sistema Per la condivisione Dei dati E degli esperimenti E all'epoca Utilizzavano FTP Che era una rottura di palle Perché tu volevi avere Un testo descrittivo Con i dati Con le immagini Non volevi avere Che ti scaricavi Da una parte il testo Da una parte le immagini Poi quel testo Si riferiva a quell'altra immagine Ah era tutto un casino Allora Tim Berners Lì aveva un po' Di tempo Ha detto Sai che c'è Ho visto Lì per testo Non è una cosa Che si è inventata lui Esisteva già Lì per testo E diceva però Facciamo lì per testo Quindi immagini Dati E documento Tutti insieme Ma Con un protocollo Che permetta poi Di scambiarcelo Al posto dell'FTP E si è inventato Il web Qual è il valore del web? Non credo sia calcolabile Perché Ha generato Una quantità Un'industria Che oggi Oggi vale più Dell'industria Dell'infrastruttura Dei trasporti O dell'agricoltura Probabilmente In termini di PIL Delle nazioni Quindi È l'impatto Che ha avuto Questa invenzione Che è del tutto Collaterale E non funzionale Esattamente Trovare Le particelle Che cercavano All'epoca Cercavano Di stabilire La massa Del bosone W Più Meno E Z Perché Dovano confermare La teoria Di Steven Weinberg Abdus Salam E Selden Clasho Questa era L'obiettivo Quando Tim Berners Li ha inventato Il web Voi Probabilmente Della massa Di queste Tre particelle Non avete mai Sentito parlare A parte Una persona Che viene Dall'INFN Mentre Tutti gli altri Avranno Sentito parlare Del web Questo è ad esempio Il bersaglio Che stiamo Costruendo De noi Un bersaglio Che deve Sopportare 125 megawatt Di potenza Di fascio Su barre Di tungsteno E la tecnologia Che stiamo sviluppando Per costruire Questo bersaglio Probabilmente Darà Poi il via A una serie Di sistemi Per fare Schermaggio Ad esempio Nei reattori Di fusione nucleare Dove la temperatura All'interno Del core Deve sopportare Potenze Di questo tipo E quindi Verranno poi utilizzato Ma noi non lo usiamo Per quello Lo usiamo Per la nostra macchina Nostro acceleratore Questo ad esempio È il nostro Building Del bersaglio Che Ci hanno chiesto Che resista Alla cascata Degli aerei Perché dicono Poi dentro Il radioattivo È meglio Se resiste Allora Io ho parlato Un po' E quindi Volendo Potrebbe aprire Una Sessione Di domande Ma A tutto questo Posso dire Che c'è Almeno una serie Di domande Vediamo se Riesco a prevenirvi Un po' Che non ho mai Fato sentito Nella mia vita Quindi mi domando Se voi Abbiate domande Di questo Adesso Faccio girare Un po' Il microfono Intanto Cos'è? Non siamo noi C'è uno Che ti spara Facile Qualche domanda Rompi il ghiaccio Per noi Ci dà una mano La più grossa La dice lui Dopo per noi E' facile Va bene Visto che mi hai detto Qualcosa Mi era interessato Quelle pipe Di estrazione Dei neutroni Quelle su cui Si riflettono Dentro Che Che scala Di dimensioni Hanno E quanto Devono portarli Lontano E quanto Devono deflettere Insomma Un po' Un ordine Di grandezza Delle dimensioni E di che Deflessioni Si riescono ad avere Ti dico Per quello Che ho visto Visivamente Le guide Dei neutroni Hanno una sezione Sui 20 centimetri Sono rettangolari Sui 20 centimetri Di apertura E la lunghezza Sarà Un 20 metri Fra 20 50 metri Dipende Dagli esperimenti Ok Grazie Vediamo un po' Ma nessuno Mi fa Queste tre domande Adesso Adesso C'è C'è Io capire Cos'è il bosone Dx Mi piacerebbe Perfetto Questa Allora Passo prima Dalla prima Di queste domande Perché è molto rapida Vi dico Semplicemente Quanto costa Perché questa È una domanda Che mi fanno sempre La prima Di solito E Questo è Il costo Di questi progetti Più o meno Cioè Se Quando Leggete Da qualche parte Ah Sì Ma Tutti sti soldi Buttati via Per trovare Il bosone Dx Non potevamo Utilizzarli Per cacciare Gli immigrati Affondare Di barconi Perché un tempo Si diceva Per aiutarli Oggi Però Li affondano Quindi Sei rimasto Informato Comunque Sei là Ma sei informato Sì Sono informatico Circa Un euro All'anno Cioè Delle vostre tasse Che avete pagato Mi avete Contribuito Con Voi siete lì Una ventina Diciamo Un pranzo Mi è arrivato Grazie Questo Per i progetti Costosi Tipo il CERN Il mio Costa circa Mezzo euro All'anno Cos'è Sto Borsone Di Higgs Questo L'avete Sentito Nominare Sì 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 Quasi Quasi Tutti Tutti Ok Allora Ah sì Si chiedono Il senso Della tua Slide Il Bosone Di Higgs Vi racconto Un'altra Storia Faccio Come il nonno Qua seduto In poltrona Che vi racconto E il 1928 In Italia Ci sono le leggi Fascistissime Andatevele a leggere Perché sono Capolavoro Mentre In Italia Ci prepariamo Al Probabilmente Periodo storico Peggiore Degli ultimi Secoli In Inghilterra C'è questo Tizio Questo si chiama Paul Adrian Maurice Dirac Che Studia Lui studia Non è Mica Un fesso Che studia Dirac Dirac Sta cercando Di risolvere Un problema Antico La meccanica Quantistica Nel 28 È nata Da qualche anno Da 20 anni Circa E L'ha fatta Al di là Di tante persone Schrödinger Schrödinger Era quello Che amava Ficcare gatti Nelle scatole E non Saperne più Niente È la persona Che Ha descritto Il moto Di una particella Come se fosse Quello Di un'onda Poi Non sarà lui A dare Come interpretazione Il fatto Che quest'onda Sia la probabilità Di trovare La particella In una determinata Regione di spazio Questo L'ha fatto Max Born Da non confondere Con Bohr Altro Della meccanica Quantistica Ma comunque Schrödinger Quando ha iniziato A scrivere La sua equazione Dell'onda Che si muove Sapeva già Della teoria Della relatività Di Einstein Non quella Della gravità Ma quella Che spiega Il moto Degli oggetti Molto veloci Alla velocità Della luce E la voleva usare Lui sapeva Che La teoria Di Newton E di Galileo Delle trasformazioni Non era esatta Perché non Non si conciliava Con l'elettromagnetismo Non funzionava bene Voleva usare Quella di Einstein E ci ha spaccato Sopra la testa Per anni E non ce l'ha fatta Prima di lui C'erano altri due fisici Che poveretti Avevano trovato La soluzione Ma non lo sapevano Si chiamavano Klein e Gordon Oggi Gordon è ricordato Solo come il maggiordomo Di Batman E Klein Per cose Che Voi Non sapete Tipo la bottiglia Di Klein Ma in realtà Non erano Quei due Che nessuno sa A parte i fisici Ma purtroppo Loro avevano Azzeccato Come dir Avevano capito Come conciliare le cose Ma non funzionavano Non funzionavano bene Le equazioni Che avevano scritto loro Bisognava Pensarci un pochino Di più Insomma Klein e Gordon Passano nel dimenticatoio Schrödinger Molla il colpo E torna Alla versione Newtoniana E scrive un'equazione Delle onde Classica Se vogliamo Ma quantistica Non relativistica E Einstein Si faceva le pippe Per i fatti suoi Perché lui Che gli evit Era Einstein Arriva Dirac E riesce a metterle insieme E scrive un'equazione Che non vi sto a spiegare Che è quella qui sotto Di un'eleganza Esagerata Per i fisici Che la guardano Ma Al di là di questa cosa Dirac Scrive Quest'equazione Che è un'evoluzione Di quella di Klein e Gordon Ma c'è un problema Cioè Ci sono Due problemi In questa equazione Una È che Questa equazione Ha sempre Due soluzioni Data una particella Ce ne sta un'altra E non si capisce Che vuol dire Perché gli viene Con l'energia negativa Lui dice Ma se cambi la carica L'energia viene positiva Non si capisce Non si capisce Dirac A un certo punto Si sveglia Fa Sapete che c'è Secondo me Questo vuol dire Che per ogni particella Ne deve esistere un'altra Che si chiama Antiparticella Che ha la carica opposta Quindi se esiste L'elettrone Ci deve essere L'elettrone Con la carica Dell'altro segno Cioè Negativa Positiva Se c'è il protone Deve esistere il protone Con la carica opposta Cioè negativa E così via E Dirac Scopre in questo modo L'esistenza Dell'antimateria Cioè La stessa della materia Ma con la carica Cambiata E questo è vero È una simmetria Di natura Che peraltro Non funziona Ma Soprassidiamo Ma c'è un altro problema Di questa equazione Quindi Questo se lo risolve Così Con questa Scoperta Non da poco Che A ogni particella Ne corrisponde Un'altra E si deve esistere Un'altra Col segno opposto L'altro problema È che questa equazione Prevede Che non esista La massa Le particelle Non hanno Massa Secondo Dirac Questa è la sua Equazione E quindi L'elettrone Non deve avere massa Il protone Non deve avere massa Non c'è la massa E questo è un problema Un po' più grosso Da risolvere Perché Se vai in laboratorio Ma anche senza laboratorio Ti metti sulla bilancia La massa La vedi E quindi E quindi che si fa? Beh Questo era un problema E Dirac Non l'ha mai risolto Non sapeva come risolverlo Purtroppo Dirac Muore Prima di Che questa cosa Giunga a soluzione Lui Saprà Della teoria Perché La legge Ma Non vedrà mai Il risultato Sperimentale Ad ogni modo Le particelle Ce l'hanno La massa Quindi Che Che Ha sbagliato Dirac Caspita Addirittura Ha previsto L'antimateria E poi Sbaglia Su una cosa così Beh Nel 1960 Attenzione Torniamo un attimo Indietro Qui eravamo Nel 1928 Nel 1960 Quindi N'è passato di tempo 32 anni 30 Dal 28 A volte a picchiare Testate sul muro Tre fisici Per vie diverse Peter Higgs François Engler Robert Robert Brou 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 Francese Non è Il mio forte Studiando Le simmetrie Delle equazioni Dirac Sempre per la stessa strada Teorema di Noether Quella è il faro illuminante Capiscono Che la massa Potrebbe Non essere Una proprietà Della materia Come la carica La carica elettrica Per quanto ne sappiamo Noi oggi È una proprietà Intrinseca Della materia Non è C'è La si mette Come Come numero Ad katzum Nelle equazioni Non c'è un modo Per Portare Per Dire Che la particella Assume una carica Ce la deve avere Ma la massa Ma la massa Loro dicono È possibile Che sia una proprietà Acquisita Cioè Le particelle Nascono tutte Senza massa Come il fotone Il fotone Quello che compone La luce Non ha massa Si muove La velocità Della luce Perché non ha massa E rimane Tutta la sua vita Senza massa Invece Le altre particelle Interagiscono Con qualcosa Che è presente Nello spazio Immaginiamo Di avere Una melassa Di solito Esiste un Quando la spiego X La prima volta Utilizzò Al pubblico Utilizzò Questa cosa Immaginate di essere In una sala A una festa La sala è piena Di gente Che è lì Che sbevazza E a un certo punto Dentro questa sala E sono tutti lì Che si fanno le canne Tutte queste cose qui Entra Uno della Finanza Cosa succede? Che tutti quanti Girano le spalle E stanno fra di loro E cercano Di non farsi Insomma Di isolarlo Il più possibile Di non farsi Accorgere Questo qui Passa indisturbato Attraverso la gente Perché lo sbiro Non lo vuole nessuno Oppure Roger Ver Per dire Chi ha reso Solo uno Immaginiamo Che invece In questa sala Entri Ora dovrei dire Una figa pazzesca Ma poi Mi tacciano di sessismo Cristiano Ronaldo Tutte le ragazze Della sala Si girano E vanno A cercare Di interagire Con lui Per cui Lui Dall'entrata Dalla porta Per arrivare A prendersi Il drink Ci metterà Tempo Perché Deve stare A cercare Di scrollarsi Dosso Tutte Le signore Della sala Che vogliono interagire Con lui Giustamente E lui quindi Rallenta Rispetto All'altro Personaggio Che invece Se la andava Se la viaggiava A via Luce Questa è sempre La spiegazione di Higgs Lui la raccontava così Lui Lui così la raccontava Forse non con Cristiano Ronaldo E Roger Ver Ma credo che i personaggi Siano sì Per cui Che cos'è Il bosone di Higgs E' esattamente questo Nello spazio C'è C'è un campo In tutto lo spazio Che si chiama campo di Higgs Gli hanno dato il nome Dopo Che lui l'ha ipotizzato Lui e questi tre signori In realtà E Nel momento in cui La particella Si muove E Se interagisce Perché completa Una simmetria Con Il campo di Higgs Rallenta E acquisisce Inerzia Quest'inerzia Noi la misuriamo Dandogli il nome di massa Perché Newton ci ha spiegato Einstein Scusa Ci ha spiegato Che la massa inerziale E la massa cinetica Di fatto Sono la stessa cosa E quindi Noi non la sappiamo distinguere Non esiste la massa La massa è una proprietà Che si acquisisce Per interazione Col bosone di Higgs Quindi Dirac aveva ragione Tutte le particelle Nascono prive di massa Ma col fatto Che esiste Il campo di Higgs E alcune di queste Interagiscono Alcune di più Altre di meno Alcune hanno più massa Altre hanno meno massa E questo è la spiegazione Della massa Quindi Capite che se non fosse esistito Il bosone di Higgs Noi avremmo una teoria Oggi Molto bella Quella di Dirac Che spiega tante cose Delle particelle Ma avremmo un buco enorme Di conoscenza Che è perché C'è la massa Doveva esistere Il bosone di Higgs È una ricerca Che si fa Dal 1960 Ci ha provato Il Tevatron Ci ha provato Il LEP E finalmente C'è riuscito LHC Il 4 luglio del 2012 52 anni dopo L'ipotesi di Higgs E 84 anni dopo La teoria di Dirac Per dare un'idea Di quanto ci voglia A Venirne fuori È stato annunciato In una sala Che sembrava Uno stadio Il bosone di Higgs L'esistenza Del bosone di Higgs Trovato al CERN Per una massa Di 125 GeV E oggi Sappiamo che La teoria È quella Ed è corretta Per cui era necessario Trovarla Per confermare La teoria Quindi Higgs In pratica È Ronaldo Il bosone di Higgs È Ronaldo Fondamentalmente Nella spiegazione So capito bene È tutti quelli Che vanno a interagire Con lui Ok Ronaldo È una particella Dotata di massa Che noi chiamiamo Dotata di massa Un elettrone Un protone Più è grossa Più è popolare Cioè più interagisce Con questi bosoni di Higgs Che stanno nella sala Più lui rallenterà E noi percepiremo Il fatto che non si muove Più alla velocità della luce Ma a una velocità finita E questo Gli è dato Dalla massa Dall'inerzia che ha Nel interagire Con il bosone di Higgs Ok grazie Ora Questo è un filmato Di dieci minuti Io fra l'altro L'ho tagliato Perché il filmato originale È di due ore E non ve lo voglio stare a fare Perché è tutto un pippone Ma vi voglio far vedere Una cosa Questo è il giorno In cui è stato Annunciato il bosone di Higgs Vi voglio far vedere Solo un momento Non ci riesco Perché chiaramente Vediamo se ci riesco Questo era il direttore generale All'epoca Ma non ho il controllo Per farlo andare avanti e indietro Quindi vediamo La slide Se no vabbè Se no Ah sai che posso fare Aspetta Tanto lo trovate su youtube Se ve lo volete vedere tutto È un pippone di due ore Che non consiglierei Neanche il mio peggior nemico Io l'ho visto tutto in diretta Chiaramente Però Ma la cosa A cui io Non avevo mai assistito In vita mia Io ne ho viste Qualche talk L'ho visto È quella che accade A questo punto Allora Parlano i due esperimenti Prima CMS E poi Atlas Ci sono due esperimenti Costruiti da due team Del tutto indipendenti Per validare Le misure fatte da uno Perché una macchina Come LHC È difficile da riprodurre Non ce n'è un'altra Nel mondo attualmente Quindi Se un risultato è valido Per un esperimento Poi Quando fa la pubblicazione Chi lo prova Ecco che Hanno deciso Di costruire due esperimenti Del tutto identici In quello che devono vedere Ma costruiti in modo Completamente diverso In modo tale E indipendenti I team Non si possono Scambiare i dati In modo tale Da verificare Che le cose Siano fatte In maniera corretta Ora Dopo quello Questo era Lo spokesperson Di Di CMS Del Compact Mulo Solenoide E poi Parla la Fabiola Gianotti Che oggi è Il nuovo direttore Del CERN Che era La responsabile Di Atlas Ora Mentre lei parla Con le sue slide In comic Sans Non so se le avete Mai viste Sono disgustose Lei ci tiene Particolarmente A questi colori A questo font Infatti mi chiedevo Perché non hai usato Gli stessi standard Anche tu Sì Quando lei comunica Lo fa così E che gli vuoi dire Questa Ne sa una Più del diavolo Quindi ha ragione lei Mentre presentava A un certo punto Vediamo se trovo Il momento Che volevo farvi vedere Ecco Più o meno A questo punto qua Succede un evento Che io non ho mai visto In una presentazione Scientifica Si vede Si sente Ecco questo è Il grafico Che mostra L'esistenza Questa gobba Di qua e di qua Che mostra L'esistenza Di questa particella Cioè il bosone di In the right You can see the region Excluded Until this morning And this is what We have now Total blackout Everywhere Except In this mass window Here Between 126 22.6 And 129.7 GV And also Note that A large part Of this region Is also excluded At 99% Confidence level Ok Of course We don't reach We have sensitivity Beyond 600 GV So I'm not talking About high mass region Concentrating all So Quantification Of the excess This slide shows Again The usual prevalue As a function of mass And also The significance Now As a function of mass I show the full mass range Because It shows you The excellent consistency Everywhere Between Background The ground only Scenario And the data At the level It's actuation At the level Of below Plus or minus Two sigma So this distribution Extremely clean Except one Big spike Here In this region Here So Zooming In this region Ecco Acordatevi di vedere Una cosa simile A una conferenza Scientifica C'erano Anche gli ultras Esatto Lei è imbarazzata Addirittura Perché Non se l'aspettava E la cosa va avanti Ancora un po' E poi E poi vabbè La parte più interessante È che Al termine Di tutto ciò Si vede So This is our main result Also Bla 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 E questo qua Che si mette a piangere Era Peter Reeds Diretto Aspettava Questa cosa Da 52 anni Infatti Al termine Dell'intervista Forse c'è dopo Vediamo se c'è Mi pare proprio di sì Questa è l'Inavance Questo è stato Il direttore Della macchina Colui che Conosceva ogni bullone Dell'acceleratore Questi erano Quelli in Australia Che ascoltavano Mike Lamont Gli altri teorici Ma a un certo punto Dovrebbero intervistare Anche Peter Reeds Non so me lo ricordo Che c'era Eccolo qua E François Englert Il terzo Purtroppo Non ce l'ha fatta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Abbiamo cominciato in qualche modo questa avventura. Questo è François Englert. E questo è Peter Eats. E gli dice che per lui è incredibile che tutto ciò sia accaduto peraltro nella sua vita. Perché ormai non ci sperava più. Va bene, questo è quanto riguarda la storia del bosone di Higgs. Una domanda. Quindi noi abbiamo il fotone che non interagisce col bosone di Higgs, giusto? Precisamente. E abbiamo altre particelle che non interagiscono col bosone di Higgs o è l'unica? È interessante questa domanda. Allora, che noi sappiamo tutte le altre particelle che osserviamo hanno una massa, a parte i fotoni. No, non sono sicuro. Forse il gluone non ha massa, quella dell'interazione dei quattro. Il gravitone ha autointerazione, quindi ha massa, se dovesse esistere. Ma considera che c'è un fatto abbastanza interessante. Noi il 90% della massa dell'universo non sappiamo da che cosa è composta. È facile che sia composto da particelle che interagiscono con pochissima roba, perché appunto non vedendole, non avendo idea di che cosa siano, e quindi che non interagiscano, che non abbiano massa. La famosa massa oscura. Esatto. La materia oscura. La materia oscura, sì. E se non ricordo male, per poter individuare il gravitrone servirebbe un acceleratore di dimensioni enormi che non siamo in grado di costruire, corretto? Non è detto. Nel senso, allora, per quanto riguarda l'unificazione della teoria della relatività generale con la meccanica quantistica, non c'è una teoria. Ad oggi non esiste nessuna teoria che funzioni. Quindi noi non abbiamo un faro illuminante. Tutto il pappone che vi ho raccontato della teorema di Noether, che poi si sviluppa con le simmetrie e i principi di conservazione, vale in una struttura generale che oggi noi chiamiamo il modello standard delle particelle, il cosiddetto modello standard. Qualunque teoria che includa una quantizzazione della gravità è estranea al modello standard, perché il fatto di utilizzare lo spazio e il tempo non più come variabili indipendenti, quindi dentro un sistema di simmetrie globali, ma come particella, rompe completamente tutta la struttura teorica che noi abbiamo. ci sono tentativi, c'è la gravità loop, c'è la teoria delle stringhe, avrete sentito dire, ma nessuna di queste ha una struttura teorica alle spalle in grado di prevedere risultati sperimentali, di fatto. La teoria delle stringhe la sviluppano ormai da più di vent'anni e non ha una predizione sperimentale che non sia quella che possiamo fare col modello standard. Non dice niente di più. Ora, secondo alcune pippe mentali e carpiate rigirate di alcuni teorici, loro ipotizzano che possa esistere il gravitone con certe proprietà, secondo quel livello di pippe mentali, allora la massa del gravitone sarebbe molto grande e quindi occorrerebbe una collisione, un' densità di energia pari a quella massa, quindi acceleratori molto grossi. Però è come dire che esistono gli unicorni su Mercurio e noi non li abbiamo mai visti. Questo è il livello di accuratezza di quelle teorie. Domande? Se no faccio domande io sul tempo, dopo lì però ti il lupo lo so. Allora, l'antiparticella dell'elettrone è il positrone. Esistono antiparticelle del neutrone e del fotone? Ah, bella quella del fotone. Del neutrone sì, perché il neutrone non è una particella elementare, è composta da quark up e down e ognuno di questi ha una carica. La chiamiamo carica frazionaria perché vale un terzo, ma esistono gli antiquark identici, ma con la carica scambiata, se pigli l'anti-up e l'anti-down, sono tre in realtà, due up e un down, li metti insieme con le cariche opposte, ottieni l'anti-neutrone. Quindi per il neutrone sì, è lo stesso per l'antiprotone. L'antiprotone, fra l'altro, pochi lo sanno, ma è stato scoperto da uno dei pochi premi Nobel per la fisica. Sapete dire i premi Nobel che abbiamo avuto in fisica in Italia? Me li dite? Ci proviamo. Rubbia? Io non ne so. Rubbia? Poi? Uno ha detto Fermi Rubbia. Fermi Rubbia, poi? Qualcun altro ne sa altri? No, ci si ferma Fermi Rubbia. Siamo fermi? Fermi sì, beh. Fermi è... Enrico Fermi ha vinto lui il Nobel e sette dei suoi studenti di dottorato, sette, hanno vinto il Nobel. È considerato una leggenda dagli americani, perché poi loro ci tengono tanto alle università ad avere talenti, e lui aveva... e si dice che di questi sette premi Nobel, metà almeno andassero a idee sue. Un vulcano, una produzione sterminata. È stato il più grande genio della fisica italiana che abbiamo mai avuto. Poi c'è stato Marconi che ha vinto il Nobel, si ricorda poco, ma questo un po' si sa, e con tutte le dispute del caso, su chi ha inventato la radio, lui, Tesla o altri 3000, perché poi la radio era già... Secondo me l'ha inventata Hertz, e volessimo proprio dire che... o addirittura Maxwell, però Maxwell non aveva capito benissimo la soluzione ondulatoria, Hertz sì, quindi da lì in poi è tutto in discesa. Poi c'è stato Emilio Segre, che è stato studente di Fermi e ha vinto il premio Nobel per la fisica per la scoperta dell'antiprotone, cioè lui l'ha dimostrato sperimentalmente. Dirac l'aveva predetto teoricamente. E poi Riccardo Giacconi, di cui non so se voi vi ricorderete, ma è il più recente fra tutti questi per l'astronomia a raggi X. Quindi uno di questi premi Nobel italiani è stato Segre, che... Segre o Segre, non so come si pronunci, che ha vinto il Nobel per l'antiprotone. Quindi antineutroni e antiprotoni esistono. L'antifotone no, perché il fotone ha carica nulla, però il fatto di avere carica nulla non vuol dire che non possa esistere l'antiparticella. Ma andiamo in un terreno molto più complicato dove l'anti, io ve l'ho definito come la carica opposta perché è il modo naturale di simmetrizzare l'equazione di Dirac, ma se la particella ha una chiralità, allora l'antichirale è ancora antiparticella. Per esempio il neutrino, che è particella elementare, non come il neutrone, quindi non ha carica, ma diciamo gira in un senso, esiste il neutrino destrorso e il neutrino sinistrorso. Si suppone, ancora oggi non è una cosa chiara, che uno sia l'antiparticella dell'altro, però è una cosa complicata e la fisica del neutrino è piena di insidie ed è molto al limite del modello standard. È una fisica ancora poco compresa. Il fotone no però, perché non ha chiralità, ha solo stati di polarizzazione. E quindi il fotone non ha antiparticello, se vogliamo è uguale, coincide con la sua antiparticella. domande? No, sai che... Sì, ce n'è una. Intanto ti ringrazio, sei stato molto chiaro e devo dire che sei un divulgatore straordinario. vorrei capire... Ho sempre avuto la curiosità di capire perché materia e antimateria si annichiliscono. Ah, buono. Questo perché... Nel momento... Questa è una cosa un po' complicata e questa cosa è stata spiegata molto bene da un fisico di cui, se avete voglia di leggere una delle biografie più divertenti della vostra vita, leggete Sta scherzando Mr. Feynman. Richard Feynman è stato un fisico... Un burlone. Probabilmente, se tutti conoscono Einstein come icona della scienza, tutti i fisici, se potessero scomigliare a qualcuno, vorrebbero scomigliare a Feynman come tipo. Ecco, Feynman è uno che ha chiarito un concetto che prima non era tanto chiaro, cioè come avviene l'azione a distanza. Noi abbiamo due particelle e finché sono a distanza cosa succede? Ecco, lui per primo ha applicato la teoria delle simmetrie di Mineter alle particelle e ha spiegato che non esiste azione a distanza. Man mano quando le particelle interagiscono è sempre puntualmente, quindi se noi abbiamo due particelle cariche, per esempio, che si respingono, due elettroni, questi si devono scambiare a un fotone e l'azione del respingimento avviene solo localmente. Quindi, noi abbiamo un elettrone, abbiamo l'altro e in mezzo immaginate che si sparino il fotone e quindi per via di questo si allontanano. è uno schema che quantisticamente è un orrore però in realtà è molto più complicato ma succede questo. Questo fotone che viene passato da uno all'altro per fare l'interazione che noi poi chiamiamo campo elettromagnetico ma è lo scambio proprio di un fotone, a sua volta se è di energia abbastanza elevata si può disaccoppiare in due particelle un altro elettrone e un positrone che fanno un loop e si richiudono. Quindi il fotone viaggia da uno all'altro fa un loop e poi si annichilisce e continua. L'elettrone e positrone a loro volta si scambiano un altro fotone nel mezzo mentre fanno il loop il quale si può separare ancora in un elettrone e positrone il quale si può generare un fotone e così via. Questo casino che si chiama questa è la teoria dell'interazione elettromagnetica e che poi si estenda a tutte le interazioni è particolarmente complessa e ci dice una cosa tutto quello che può accadere lo fa una delle cose che non è in violazione di nessun principio è che due cariche elettriche di segno opposto che appartengono alla stessa famiglia quindi l'elettrone e il positrone sono un esempio possono annichilirsi cioè possono semplicemente trasmutare la loro energia e generare un fotone questa è una delle soluzioni dell'equazione di Dirac quindi è possibile e allora lo fanno allo stesso modo un fotone si può disaccoppiare in un elettrone un positrone non è vietato anzi proprio per la storia che la freccia temporale non conta niente questi fenomeni sono del tutto interscambiabili e succedono e succedono continuamente tutta l'interazione delle particelle noi vediamo la luce che ci arriva in realtà si genera un mare di particelle che si trasformano continuamente le une nelle altre e fanno questo genere di balletto quindi il perché possano scambiarsi è perché non è vietato non c'è un principio di conservazione che dice che elettrone e positrone debbano rimanere lì il principio di conservazione è della carica e ci dice che la carica totale deve essere conservata ma siccome non era più una meno la carica totale è zero e il fotone la conserva il principio globale ci dice che il numero leptonico quelli con i leptoni che sono gli elettroni in questo caso il protone è un adrone ad esempio non è un leptone i leptoni che sono gli elettroni i muoni eccetera si contano col più se hanno carica più col meno se hanno carica meno in questo caso sono zero perché uno col più uno col meno fa zero allora possono generare un bosone che è il fotone siccome possono farlo allora lo fanno quando lo fanno quando la quantità di moto è conservata la densità di energia è sufficientemente elevata e allora avviene questo fenomeno tutti questi fenomeni avvengono con una certa probabilità più sono vicini per esempio elettrone e positrone maggiore la probabilità che possano trasformarsi in un cotone e si possono calcolare queste probabilità Feynman ha dato le regole con i diagrammini che si è inventato lui si chiamano diagrammi di Feynman che risolvono un casino di equazioni integrali che danno queste cose comunque la spiegazione alla tua domanda è perché niente lo vieta grazie ma il fatto che le cose succedano semplicemente perché possono succedere bastava chiedere a qualunque sistemista non c'è bisogno di infatti si dice che il sistemista o l'informatico lo riconosci da come attraversa la strada se un informatico attraversa la strada senza unico guardando sempre dalle due direzioni esatto ok confermano abbiamo altre domande pare di no chiedi quanto bisogna studiare ah mi dicono quanto bisogna studiare per venire a lavorare lì con te quanti anni c'ha quello che ha chiesto questa cosa ah 40 più o meno sono io Enrico per venire a lavorare noi dici che è tardi no beh con le competenze informatiche che hai tu sicuramente per qualche posto in IT puoi applicare non c'è nessun problema se mi chiedi se è facile venire cioè applicare per studiare dinamica dei protoni ti dico che devi studiare un po' vabbè no ma lui veniva per mettere i vostri dati su blockchain ah quello va bene quando vuole allora ve la faccio io la domanda che di solito è la seconda dopo quanto costa ma dopo il bosone di Higgs a noi che ci frega cioè ora che sappiamo che c'è vabbè la teoria è bella abbiamo spiegato l'universo ma che ci frega questa è una domanda che fanno spesso magari ve la faranno anche a voi e quindi io vi preparo una risposta che avevo preparato all'epoca per gli studenti siccome mi piace raccontare la storia della scienza allora siamo nel 1888 questo signore con l'occhialino studiava le proprietà chimico-fisiche del colesterolo delle carote voi sapevate che c'era qualcuno che studiava il colesterolo delle carote risate generali si accorge di una cosa quando lui estrae il colesterolo delle carote è un acido grasso e lo riscalda questo prima si trasforma in una pappetta opaca poi a una seconda temperatura diventa trasparente quindi ha due transizioni di solito la transizione solido-liquido è una invece lui vede che ci sono due temperature di transizione il processo è anche reversibile quando si raffredda ritorna pappetta opaca e poi ritorna solida beh che aveva scoperto questo signore aveva scoperto che nella pappetta opaca osservandola al microscopio aveva visto che c'erano dei cristalli in una forma molto strana che lui non aveva mai visto prima in realtà è stato poi un fisico tedesco a dargli una spiegazione con un modello dicendogli che lui aveva appena osservato dei cristalli in forma liquida ora immaginatevi un qualcuno che passa dal laboratorio di questo signore gli chiede nel 1888 vabbè ma che ti servono i cristalli liquidi ecco a un secolo di distanza tutta la nostra civiltà è oggi basata sui cristalli liquidi quindi se uno dice a che serve il bosone di inizio non ce l'ho una risposta sarei sarei stupido a dire ah la risposta è che ora lo sappiamo che esiste e che ha determinate proprietà e che è ciò che dà la massa immaginate per esempio un dispositivo che possa schermare il bosone di inizio cioè quando entra il cristiano ronaldo di turno può tenere lontana l'imperazione intorno a sé vorrebbe dire eliminare la massa o comunque poterla ridurre a piacimento questo sarebbe una rivoluzione tecnologica immensa l'aereo potrebbe volare senza i motori però è fantascienza non è che esiste neanche una teoria o un'ipotesi di una cosa simile oggi ma non esisteva al colesterolo le carote l'idea che puoi puoi farci il telefonino è distante uguale nel 1888 non esisteva neanche l'ipotesi della sveglia dell'orologio da polso del telefonino questo se ve lo chiedono bello abbiamo una bella risposta poi avevo la lista dei disastri so che questo piace allora avevo preparato quando abbiamo fatto esplodere l'HC che l'abbiamo distrutto si si quello quando ho sparato fascia in faccia a una persona so che queste cose non sono vai vai è ancora vivo poi no? si è ancora vivo si chiama Anatoly Puporsky e questo si è preso fascia in faccia dritto era il 1978 era il 1978 diciamo che le misure di sicurezza nei laboratori non erano quelle moderne e si è preso l'equivalente di 6.000 raggi tra l'altro leggende vuole che il lato della faccia irraggiato sembri più giovane dell'altro oggi se si guardano le foto lui è ancora vivo io sono stato a una conferenza chiedono come è finito? è ancora è vivo comunque era russo quindi credo che la vodka abbia schermato la vodka e questo qui vediamo se lo trovo oggi è questo qua quindi ha un lato del viso con le rughe e uno senso sì effettivamente è invitato di meno dal lato che è stato bombardato attenzione perché potresti ritrovarti un sacco di persone a venire a fare esposizioni per la cosmesi nuova funzione dell'acceleratore di particelle ma sì io non è che proprio lo raccomando ma comunque e niente poi l'hc voi ve lo ricordate che l'abbiamo fatto saltare per aria no? vero? mi dicono di no ma una delle domande che ogni tanto mi fanno ma questo buco nero è pericoloso perché molti dicono che potreste generare buchi neri inglobare l'intero pianeta cosa l'ha detta un biologo non è un fisico quello che si è inventato questa cosa è un biologo che si è letto un libro divulgativo di fisica credo ha fatto dei conti alla cazzo e poi sono usciti con questa teoria in realtà non è impossibile che si possano generare buchi neri a densità di energie molto elevate però non possono sono strutture che esisterebbero a livello atomico non possono non è il buco nero che inghiotte tutto ah fra l'altro vi devo fare vedere una cosa aspettate un attimo perché io ho conservato tanti documenti riguardo a vediamo se mi ricordo di dove ho messo questi ho conservato tanti documenti riguardo all'HC al primo fascio c'era il doodle di google addirittura all'epoca questa è la macchina che c'è su anche il nodo bitcoin ogni volta è lentissimo perché deve processare quei cazzo di transazioni di sta gente probabilmente c'è tirio vediamo se trovo la pagina che vi volevo far vedere se si sveglia sto sistema chiedono se il tuo dominio scoom.it ha a che fare con scoom.wm di monkey island beh scoom.wm certo cioè non il vm nasce dalla script creation utility for maniac mansion sì l'ho registrato quando hanno quando è cominciata l'era del dns in seguito a monkey island certamente ottima mossa allora non era in foto quindi allora ce l'ho da un'altra parte che poi tanti mi hanno contestato che scoom non è una bella parola ma in che lingua? beh in inglese scam ah ah vedi c'era il gioco di parole è stato il gatto vero? allora questa ora prova a ingrandirla fu una fake pagina di repubblica dell'epoca in cui annunciavano che per via dell'accensione del CERN di LHC avevamo fatto i buchi neri e particolarmente divertente perché allora alla fine del mondo tra 24 ore l'universo sarà risucchiato dal buco nero al CERN sconcerto bla 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 è focus questo tutte le immagini tutta la la struttura era su questa cosa per cui c'era nude per fermare l'HC nella colonna di destra ormai è troppo tardi ma rifatevi gli occhi per l'ultima volta noi citeremo la simulazione del collasso del sole operazione last gossip George Clooney rivela sono gay outing in extremi sul lago di Como benedetto sedicesimo una scienza senza dio ci ha portato alla catastrofe Berlusconi convoca il consiglio dei ministri a Lampedusa perché l'embo d'Italia più lontano da Ginevra era un po' tutto di questo tipo e X che dice tutto per un bosone almeno l'avessero trovato era piuttosto divertente perché sembrava abbastanza e questo è il tizio Rossler che si è inventato questa storia dei buchi neri no non vengono fatti i buchi neri peraltro trovare extra dimensioni quindi sort of buchi neri è una delle missioni era una delle missioni dell'HC l'HC a tutt'oggi è nello scenario peggiore che avevamo previsto c'erano tre scenari quando lo stavamo costruendo uno era non troverà niente neanche il bosone di Higgs e questo era interessante perché voleva dire che la teoria di Dirac era incompleta e dovevamo inventarci qualcosa uno era troverà il bosone di Higgs e altre cose non previste come le supersimmetrie extradimensioni e violazioni di simmetrie varie e poi lo scenario peggiore la conferma dell'esistenza del bosone di Higgs e nient'altro questo è dove ci troviamo oggi perché peggiore mi chiedono beh perché non abbiamo nessuna direzione per per la nuova fisica non sappiamo a che scala di energia questo era il doodle di Google a che scala di energia si si manifesterà della nuova fisica se c'è la materia oscura dov'è noi l'abbiamo vista si dovrebbe vedere qualche segnale nell'HC ma magari è una scala di energia inaccessibile l'HC fa collisioni a 14 TeV Terra elettronvolt magari la materia oscura esiste solo a che ne so 1000 TeV o oltre non lo sappiamo perché non abbiamo una teoria che ci guidi su questo su questo fatto della scala di energia c'è un limite o meglio è stato calcolato un limite massimo a cui è possibile arrivare a questo genere di esperimenti sulla terra per esempio perché immagino che per esempio nel Big Bang le energie fossero quasi infinite eccetera qui in un ambiente limitato o comunque con risorse limitate eccetera è stato calcolato qual è un limite massimo dentro cui a cui si può arrivare o non è stato previsto o non è stato calcolato o non c'è molto complicata come domanda ti rispondo con una cosa che è un po' parallela Enrico Fermi è stato uno dei primi propositori delle degli acceleratori di particelle perché aveva capito che potevano essere lo strumento per investigare la fisica delle alte energie che è quella in cui si manifestano tutti i fenomeni simmetrici che poi danno le leggi di natura lui aveva proposto di fare un acceleratore siccome era un uomo rigerato delle dimensioni della terra lo voleva fare di 40.000 km intorno all'equatore perché c'è anche da dire che Fermi probabilmente se fosse vissuta sufficienza l'avrebbe anche fatto l'energia che lui prevedeva per le collisioni era circa di 10 TeV cioè un po' meno di quella che oggi facciamo in 27 km con l'HC la differenza sostanziale è che lui prevedeva dei campi magnetici da due Tesla che sono il massimo che si può generare con i magneti col ferro e noi invece possiamo fare magneti da 10 Tesla perché utilizziamo i superconduttori che lui non conosceva quindi il salto tecnologico ha permesso di riscalare una macchina da 40.000 km a 27 esiste io sono stato adesso in Australia a una conferenza ci vado quasi tutti gli anni se posso e uno dei settori che presenta di più è l'accelerazione con i plasmi cioè invece di accelerare come facciamo noi con questi macchinoni c'è tutto uno studio per generare un gas ionizzato di idrogeno che si chiama plasma a cui viene inviato un impulso laser ad altissima energia con breve risoluzione temporale che genera un'onda dentro al plasma la propagazione di quest'onda genera un'accelerazione delle particelle stesse paragonabili a quelle di LHC in un metro di lunghezza anziché 27 km il problema è che chiaramente tenere quest'onda confinata fare un fascio che sia di buona qualità è un casino che non ancora da io sento queste conferenze da ormai saranno 15 anni e non hanno mai risolto bene però si stanno muovendo in quelle direzioni ora se facessero un acceleratore come LHC nella dimensione di un metro uno potrebbe pensare che in 100 metri fai 100 LHC in 1000 metri fai 1000 LHC e quindi si potrebbe salire di energia anche già mille volte quindi io non so dire la tecnologia che cosa ci può portare perché ci possono essere salti tecnologici tali da arrivare a energie oggi del tutto inaccessibili quindi non c'è una previsione in questo senso con la tecnologia dei magneti attuali la proposta migliore che c'è è quella di fare una macchina da 100 km che vada a 10 volte più di LHC quindi 100 tempo questo è fattibile se oggi ci dessero i soldi la potremmo cominciare a costruire 10 euro a testa? scusa? 10 euro a testa? ah 10 euro a testa 10 euro a testa voglia ma guarda accettate bitcoin io accetto tutto ok se le nazioni si prendessero 2-3 giorni di pausa dallo scannarsi noi potremmo fare almeno 50 di queste macchine la spesa in armamenti mi pare di 55 mila euro al minuto una cosa di questo tipo c'è il budget di una di queste macchine loro se lo fumano in un paio di giorni di guerra quindi se magari se andassero in vacanza una settimana al mare cioè noi tireremo parecchio il fiato oltre a non ammazzare la gente che sembraticamente potrebbe anche essere ragionevole come effetto collaterale sì però quello a quanto pare la gente adora scannarsi però almeno prendersi una vacanza c'è qualche altro disastro da farci vedere beh l'HC è quando abbiamo fatto esplodere tutto tutto spaccato tutto questo è un interessante in Canada in una macchina medicale gli hanno fritto il cervello alla gente hanno ammazzato sei pazienti per colpa dei software c'era un bug un aggiornamento c'era un buffer overflow era una macchina a elettroni che poteva funzionare in due modalità poteva funzionare inviando gli elettroni a bassa energia sul paziente per fare terapie elettroniche o mettendo un bersaglio nel mezzo una targhetta che assorbiva gli elettroni e produceva raggi X i quali andavano poi a bersagliare il paziente che come funzionano tutte le macchine ad esempio di cura del tumore al seno oggi il tumore al seno viene curato con radioterapia con una macchina raggi X che dietro ha un acceleratore di elettroni che colpiscono un bersaglio e da questo bersaglio si genera raggi X ecco il sistema non doveva mai funzionare con il il fascio ad alta energia senza il bersaglio nel mezzo perché chiaramente avrebbe colpito direttamente il paziente e non gli avrebbe fatto tanto bene ora l'interlock del bersaglio cioè lo switch che diceva sta dentro sta fuori chi ha pensato a questo sistema originariamente era uno switch hardware hanno pensato bene di toglierlo e farlo via software probabilmente avranno risparmiato 20 centesimi e il contatore del dell'aggeggio che entrava e usciva era scritto in fortran e aveva chiaramente poteva andare in overflow perché la variabile saturava e ritornava a zero e questo quando andava in overflow incasinava tutto il programma che non sapeva più se il bersaglio era dentro o fuori se succedeva in una combinazione opportuna di comandi cioè doveva triggerare il buffer overflow però era una cosa che poteva succedere che come dice tu se poteva succedere succede è successo è successo sei volte e sei pazienti invece di essere curati sono stati eh ammazzati in Canada eh non in Burkina Faso o questa è una macchina e io ho una letteratura di queste cose ce n'è ce n'è tantissimi di queste domanda macabra qual è l'effetto del fascio ad alta energia sul paziente dipende da tante cose gli elettroni sono molto interagenti quindi nel se la densità di particelle l'energia non è non è del tanto elevata hai eh la la mutazione locale del DNA e quindi puoi sviluppare tumori di solito se l'energia è sufficientemente elevata la parte del sistema delle persone che è più sensibile alle radiazioni è il midollo e quindi quello che hai di solito è la distruzione del midollo che comporta l'eucemia e comunque morte in modo piuttosto atroce e che come è finita la Marie Curie per dire lei faceva bastoni con materiali radioattivi perché lei stava ha scoperto la radioattività la Marie Curie ha vinto due Nobel uno per la chimica uno per la fisica per la scoperta della radioattività naturale il marito o la figlia ha vinto il Nobel pure per la radioattività artificiale sono tutti morti di radiazione a parte il marito che si è risparmiato questa morte perché l'ha tirato sotto una carrozza l'unico giorno in cui è andata a comprare un regalo per la moglie loro vivevano nel laboratorio quel giorno ha detto boh è andata a comprare un paio di orecchini tornando a casa la terra con la carrozza quindi non so se sia peggio fare regali o fare i pastoni radioattivi però per non sbagliare non se ne fa nessuno delle due già beh anche Fermi Fermi è morto di tumore allo stomaco si sospetta per la radiazione all'epoca non c'era tantissima prevenzione sulla sulla radioterapia oggi siamo un pochino più speriamo un pochino abbiamo qualche informazione in più adesso ci spaventa il 5G ma va c'è un c'è uno di questi banditi che circolano che mi voleva vendere l'ombrello per proteggersi dal 5G mi ha scritto mi ha detto ma tu che ne pensi era fatto in alluminio immagino vero cioè era un ombrello di alluminio immagino tra l'altro questa gente non pensa a una cosa tutte le mamme informate che si preoccupano del del telefonino che fa il 5G perché c'è l'antenna vicina e che quindi gli viene il tumore al cervello per l'antenna che installa la telecom non pensano a una cosa l'oggetto la potenza delle antenne va più o meno col vettore di pointing che sarebbe col quadrato della distanza dalla sorgente più o meno dipende come è fatta l'antenna ora l'antenna installata dalla telecom è potente fa fa diverse centinaia di watts probabilmente ma è molto lontana già a 50 metri è lontanissimo perché va col quadrato il vero oggetto che sta proprio vicino al cervello del pargolo è il telefono il quale se fanno spostare l'antenna più lontana alza la potenza e gliela alza nel cervello quindi chiedere di spostare l'antenna è una mossa abbastanza stupida perché è quella che ti permette di avere la potenza del telefonino più bassa nel momento in cui te la appiccio dell'area però la fisica non è esattamente la prima cosa che studiano le persone dicevano che c'è anche la sfiga ma è che c'è l'antenna vicino ma non è nemmeno quella del tuo operatore ah sì questo sì può capitare quello beh pigliati quello almeno il radio è più sano bene avete qualche domanda lo facciamo andare a letto io non so neanche da te chi sono le stesse tue andate a visitare gli acceleratori in Italia avete il sincrotrone a Trieste Elettra come scusa? in Italia avete l'Elettra il sincrotrone a Trieste andate a visitare dici sì andate a vedere il CERN organizzate una visita è molto interessante ora ci va a lavorare uno di Cripto Italia mi ricordo che mi dicevi c'era una visita guidata una visita al CERN in programma me l'avevi detto ma hai anche dato una data un paio di mesi fa ah c'è l'open day c'è l'open day esatto il mercato open day CERN ora non mi ricordo quando è ma andateci sicuro gli open day del CERN sono tra le esperienze più interessanti che potete fare in un laboratorio vero cioè non è un museo è proprio un laboratorio che sta facendo qualcosa sì sì non mi ricordo fra un anno e mezzo mi pare dovevi andare schermati? no mi fanno il gelato con la zoto noi lo facevamo i bambini come si divertivano era veramente bellissimo venivano lì perché poi un bambino in un laboratorio allora gli avevamo organizzato il trenino il conduttivo c'era il rail gli versavi la zoto liquido nella locomotiva usciva tutto il fumo della zoto e il trenino iniziava a muoversi e poi gli facevamo sempre con la zoto il gelato istantaneo veniva anche abbastanza buono 14-15 settembre dico ok di quest'anno si allora organizzatevi la facciamo come gita sociale tutti al CERN non è America ci sarà un carri però America Emanuele io ti ringrazio nome di tutti a questo punto direi domande visto che non ce ne sono ti prendi l'applauso grazie 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 per la curiosità se avete domande postume o se leggete articoli e dite ma sta cosa mandatemi in email le chiacchiere si fanno sempre grazie mille sei gentilissimo ci risentiamo allora per altre cose magari va bene appena scoprite qualcosa di nuovo ci risentiamo o prima vogliamo fare questa macchina da 100 km a Ginevra vediamo se ce la finanziano facciamo iniziamo noi dai facciamo una colletta qui e poi io sto aspettando quello bitcoin va al milione poi me le costruisco io e basta giusto beh che ti vuole di più cioè io non ne ho così tanti perché una macchina da 100 km costa 30 miliardi 40 miliardi 30 miliardi no c'è un po' di bitcoin e deve andare un po' su deve andare un po' su dobbiamo chiedere a Nakamoto se lo trovate avete un budget di un miliardo 100 milioni di franchi svizzeri l'anno il cern si va con un miliardo e cento un miliardo e cento quindi un mutuo trentennale siamo già posto eh ma ci devi pagare gli stipendi con quello la macchina sono 2600 di staff cern più sono 8000 user è una bella armata scavare sotto scavare un tunnel costosissima cosa se no mettere in pausa un attimo la macchina così non fluiscono i dati tutti quei core dedicati a minare qualche criptovaluta è a posto sai che l'hanno fatto hanno usato il cluster di calcolo per minare cripto due tizi poi li hanno presi li hanno cacciati però effettivamente i due per cui non usavano il cluster secondo me poteva essere una buona idea comunque sono tutti pc forse hanno un po' di gpu però non credo ormai non sono avvicinabili ci girano i gattini ci girano i gattini se ci girano i gattini si 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 grazie ancora Emanuele ci risentiamo per un altro appuntamento più avanti allora magari se sei ancora disponibile grazie mille ciao grazie a tutti ciao